Ok, ci siamo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesco Liucci e sono un giovane professionista di tennis. Nel video di oggi un video completamente diverso, lo vedete già dal mio sorriso. Questo perché? Perché secondo me abbiamo raggiunto davvero un obiettivo importante che non mi aspettavo neanch'io. Oggi è un giorno particolare, è un video speciale, quindi è un video che sta uscendo di mercoledì. Questo perché? Perché voglio andare un po' a riassumere tutto quest'anno di YouTube all'interno di questo video. Come vi ho già abituato in tutti i video, ho sempre iniziato con questa mia introduzione chi sono e cosa faccio all'interno del canale. È diventata un po' una cosa automatica anche. E nel video di oggi voglio andare, come vi ho già detto, a riassumere tutto ciò che è stato durante quest'anno. Non solo a livello di YouTube, ma anche per quanto riguarda del mio percorso tennistico, di tutti gli obiettivi e quali saranno magari in futuro i prossimi obiettivi. Quindi mi raccomando, sedetevi perché questo video sarà leggermente più lungo e parlato e meno all'interno del campo. Ma ci tenevo davvero tanto a portarvi questo contenuto, ma anche per me stesso, per andare un po' ad aggiornarmi. Come vedrete qui abbiamo anche il computer per andare un po' a ritornare sui passi che abbiamo fatto all'interno di quest'anno. Da dove iniziare? Io inizierei proprio dal giorno in cui ho creato questo canale. Che sia più un diario, quindi andare a raccontare la mia vita, sia le cose belle che le cose brutte. Perché secondo me è davvero importante, è un anno di svolta. Ero in un periodo difficile, tra tante difficoltà. E una cosa che mi portava sempre avanti, la creazione dei contenuti. Non era mai inerente a quello che stessi facendo, ovvero alla mia attività tennistica, ma sempre a fattori esterni. Come vi ho sempre detto, sono sempre stato un grandissimo appassionato di fotografia, ma non ho mai fatto dei video. Ma quello che facevo all'interno della fotografia era completamente diverso e opposto dalla mia attività professionistica. Ho già creato dei contenuti qui su YouTube inerenti alla fotografia, ma sempre senza continuità. Ho creato anche una pagina Instagram inerente alla fotografia, ma è durata davvero pochissimo. Questo perché ci mettevo tanto impegno, non inerente alla mia passione, ma al raggiungimento dei risultati. E questo ha fatto sì che con Instagram, dopo un anno intenso di lavoro, troppo intenso di lavoro, per poter arrivare ad un numero specifico di follower, mi ha completamente bruciato. Quindi da quel momento ho pensato, ok, non sto facendo la cosa che mi piace, ma solo con l'idea di arrivare a quell'obiettivo, a quel numero che non mi avrebbe cambiato la vita. Da lì ho iniziato tutto un altro percorso, mi sono appassionato dei video e ho deciso di raccontare la mia vita e la mia storia e di quello che sto facendo ancora tutt'oggi all'interno del canale. Sono partito col primo video, semplicissimo, dove addirittura parlavo della mia iniziativa, di quello che volevo andare a creare, cercando pian piano di migliorare. Per quanto riguarda l'attrezzatura, sono sempre stato semplificato in questo percorso perché avevo già tantissime cose, essendo un grandissimo appassionato di fotografia. Però pian piano ho sperimentato tante altre soluzioni e sono arrivato, credo, alla soluzione definitiva per poter creare dei contenuti sia a livello video, come in questo caso, ma anche per quanto riguarda tutti i match che sto andando a registrare. A livello di numeri non mi sono mai posto un obiettivo. È ovvio che arrivare ai 1000 iscritti era uno degli obiettivi di questo anno, sicuramente è un obiettivo. Però non era quella l'idea, l'idea era quella di trovare un qualcosa con continuità, perché comunque YouTube chiede della continuità sul proprio canale se si vuole crescere, ma facendolo sempre con passione. Trovare la continuità e la passione insieme e non essere obbligato a creare dei contenuti perché devo farlo. Questa cosa, secondo me, è davvero molto importante. Questo mi ha dato la possibilità di essere costante all'interno di quest'anno. Abbiamo creato all'incirca 77-78 video, quindi una media di davvero 1-2 video a settimana. Ci sono stati periodi e momenti dove avevo più tempo a disposizione per creare dei contenuti e quindi ho deciso di portarvi 2 video a settimana. Altri momenti, come in quest'ultimo, dove ho deciso di portarvi soltanto un video a settimana la domenica. All'interno di quest'anno ho sperimentato davvero tantissime cose, sia per quanto riguarda la piattaforma di YouTube, cercare di capire come creare e migliorare cose nuove, ma così come iniziare un po' tutti questi video, il parlato. Il corso di questo anno è risultato all'inizio difficilissimo perché creavo dei contenuti e ci impiegavo davvero delle ore e dei giorni per creare un contenuto e invece mi rendo conto che adesso bastano davvero 10-20 minuti dove mi concentro e so quello che devo dire per poter esprimere tutti i contenuti che voglio portare. Lo sto vedendo in questi ultimi giorni in modo particolare, questo perché stessa la mia ragazza ha iniziato il mio stesso percorso e essendo il primo video che ha creato qui sul canale si è resa conto anche lei che è un percorso davvero molto lungo, difficile e non è semplice a volte parlare ad una fotocamera. Parliamo di obiettivi invece a livello tennistico. Il nostro canale nasce con Road to ATP. Il nostro obiettivo non da quest'anno ma negli ultimi anni che sto giocando a tennis era proprio quello di prendere il primo punto ATP e quindi ho deciso di intitolare questa tra virgolette playlist inerente a questo mio obiettivo. Quindi non solo l'obiettivo dei 1000 iscritti per quanto riguarda il canale ma anche l'obiettivo del primo punto ATP all'interno della mia carriera professionistica di tennis. All'inizio dell'anno, da quando abbiamo iniziato, abbiamo iniziato anche a giocare abbastanza bene per quanto riguarda i primi BNL. Era abbastanza felice del mio gioco. Mi ricordo ancora tutt'oggi un po' tutti i contenuti e cosa è successo. Devo dire che siamo stati un po' sfortunati lo scorso anno perché abbiamo preso anche il Covid. Ci è durato davvero tanto, non solo a livello... Siamo stati fermi all'incirca due settimane, lo abbiamo preso sia io che la mia ragazza. Io pensavo fosse una cosa davvero molto semplice e banale ma che mi sono portato avanti per altre 3-4 settimane a livello fisico. Mi sentivo davvero molto male. Abbiamo fatto dei primi tornei, siamo andati in viaggio, abbiamo fatto un torneo in Austria completamente da soli. Siamo andati in tenda a giocare questo torneo e forse è uno dei video più visti. E quindi in quel momento lì ero un po' in confusione per quanto riguarda la mia prestazione fisica perché pensavo di aver buttato giù tutto il lavoro superando il Covid. Successivamente da lì sono cambiate delle cose. Sono cambiate delle cose e ho iniziato ad allenarmi con più intensità cercando e ritornando sul mio obiettivo. Lo avevo un po' perso di vista e grazie anche al canale che davvero mi ha dato una grandissima mano nel rimanere a focus sul mio obiettivo. Da quel momento lì siamo andati a giocare un torneo, lo ricordo ancora come se fosse oggi e questo perché siamo andati a giocare questo torneo con l'obiettivo di cercare di arrivare a Montepremi per poi pagare il biglietto per andare al Cairo. In quel periodo i biglietti del Cairo erano altissimi non aveva senso, secondo me, spendere tutti quei soldi per un biglietto solo di andata per il Cairo per giocare 2-3 settimane lì. Ricordo che le condizioni dell'anno precedente riguardo quel torneo non erano favorevoli, non sono stato benissimo a livello fisico e quindi diciamo che il tutto non era incentrato per andare a giocare quel torneo. Ricordo che era ancora il giovedì, non avevo il biglietto e stavo facendo la cancellazione per quanto riguarda il torneo. Poi improvvisamente mi ha chiamato l'agenzia con il quale mi appoggio per quanto riguarda tutti questi viaggi e mi ha trovato un biglietto last minute il venerdì mattina. Sono partito e diciamo che ero anche un po' in fiducia perché avevamo vinto il torneo precedente che avevamo giocato in Italia e poi sono partito. Da quel momento lì ho giocato questo torneo lo avete visto in tanti soprattutto quel video del primo Punta TP dove ho giocato ed espresso davvero un gran bel tennis sono davvero felice di quelle due settimane perché non era solo quella settimana lì ma anche la settimana successiva dove ho giocato davvero molto bene e ho riscato un brutto turno al secondo turno. Però avevamo espresso davvero due settimane fantastiche ed eravamo arrivati al nostro primo obiettivo quindi di ottenere il primo Punta TP. A rientro da queste due settimane purtroppo è successo quel che è successo. Quello che avete visto mi dà ancora un po' fastidio parlarne ancora tutt'oggi perché da quella settimana la mia attività per quanto riguarda quell'anno è andata un po' a calare. Questo perché come avete visto ho subito un furto a rientro da quei due tornei dove mi hanno portato via tutto tutta la roba che era in macchina tutta quella roba che utilizzavo per registrare ma non parlo soltanto di materiale perché all'interno di quella macchina e di quelle valigie c'erano tante cose a livello personale quindi di racchette di plantari computer, macchine fotografiche ma soprattutto c'era anche un hard disk dove ho inserito tutti i miei file per quanto riguarda il canale quindi tutti quei file prima di quelle settimane li ho completamente persi e questa cosa mi dispiace davvero tantissimo e oltre quella c'erano anche degli effetti personali a cui do sempre importanza perché ci sono alcuni indumenti così come quello del primo punto piccole cose a cui ci tengo davvero tanto e mi è dispiaciuto davvero tantissimo perdere senza alcun motivo però purtroppo è andata così e bisognava andare avanti da quell'episodio lì purtroppo ho fatto davvero fatica a ritrovare tutta la mia attrezzatura a dover rifare anche i documenti a trovare le mie racchette a dover rifare i plantari e tante altre cose che davvero ci hanno messo del loro tempo e quindi tutta la mia programmazione la mia fiducia e tanto altro pian piano è andata a calare abbiamo giocato dei tornei con delle racchette completamente diverse ho provato a rimanere concentrato sul mio sul mio tennis sul mio obiettivo e cercare di ottenere comunque degli altri punti ATP ero completamente in difficoltà e fin quando poi non abbiamo trovato una soluzione con le racchette purtroppo non più le stesse ma ci siamo adattati siamo stati da questo punto anche un po' fortunati per quanto riguarda il torneo di Cagliari dove siamo stati ripescati come Lucky Loser e poi abbiamo abbiamo vinto anche il primo turno in un 25.000 e in quel momento lì sono stato un po' ripagato dalla fortuna per quello che mi era successo e quindi nello scorso anno abbiamo ottenuto i due punti ATP in singolo e di questo sono davvero molto felice da quel momento lì abbiamo deciso di stoppare il tutto perché a livello fisico non c'ero più a livello mentale dovevo cambiare tantissime cose ero un po' giù di morale e quindi abbiamo deciso di iniziare prima la preparazione per cercare di ripristinare un po' il tutto trovare tutta la mia attrezzatura cercare di ripartire anche qui sul canale con YouTube e trovare un po' di senarità da quel momento lì sono cambiate tante cose ci siamo ritrasferiti a Roma dove abbiamo svolto la preparazione nel quale siamo ancora tuttora qui e da quel momento lì diciamo che siamo arrivati anche a svolgere tutta questa attività ma anche siamo arrivati per quanto riguarda il canale ai famosi 1000 iscritti ed è un raggiungimento davvero molto importante piccolo piccolissimo ma davvero molto importante questo perché perché è un qualcosa che ti non che ti paga a livello economico però di tutto il lavoro che hai svolto e di tutta la community che hai creato perché nel corso di questi ultimi mesi mi sto rendendo conto che ci sono tantissime persone che mi seguono che non conosco e che ogni tanto mi fa piacere davvero leggere tutti i vostri messaggi non credevo che questa piattaforma fosse così così importante così come ci sono i commenti positivi o negativi però mi ha fatto davvero tantissimo piacere ricevere ogni vostro messaggio sia su Instagram che su YouTube sia per quanto riguarda quello che è successo per le vittorie ma anche per le sconfitte quindi ci tengo davvero a ringraziarvi infinitamente e obiettivi per il prossimo anno ormai la stagione è già iniziata per quanto riguarda quella tennistica abbiamo dato come obiettivo quello di entrare nella classifica numero mille quindi è davvero un obiettivo molto difficile abbiamo come obiettivo invece quello di YouTube cercare di arrivare ai 5.000 iscritti nel prossimo anno quindi nel 28 o 29 marzo e sono obiettivi davvero molto difficili lo so però a volte è giusto dare e alzare quella sticella in più per darsi quella spinta in più l'obiettivo principale secondo me è quello di giocare tante partite di buon livello per quanto riguarda l'ambito tennistico e mentre per quanto riguarda l'obiettivo di YouTube è quello di creare tanti contenuti così come lo scorso anno quindi essere costante per un altro anno cercare di fare 1 bar 2 video a settimana però ovviamente cercando di aumentare la qualità non dico di video di immagine ma parlo comunque di come storia no? quindi cercare di creare dei contenuti lineari e molto più piacevoli anche a voi quindi fatemi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questi ultimi contenuti che sto cercando di migliorare per quanto riguarda i match spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio ancora nuovamente per tutti i vostri commenti per tutto il vostro supporto è un traguardo davvero molto importante per me questo qui e mi ha fatto piacere condividerlo con tutti voi io vi aspetto domenica per un nuovo video ciao a tutti